Il Signore degli Anelli 2, al via lunedì 3 ottobre le riprese della seconda stagione della serie TV Gli Anelli del Potere La conferma ufficiale del rinnovo è giunta quasi tre anni fa attraverso Jennifer Salke, a capo degli Amazon Studios Il primo Chuck per i prossimi episodi dello show colossal di Amazon è scattato presso Ibrae Studios poco fuori Londra Come la prima, anche la seconda stagione conterà otto puntate La produzione della serie ha lasciato la Nuova Zelanda, dove la prima stagione è stata girata nell'arco di due anni Un periodo più lungo del previsto a causa delle complicazioni dovute alla pandemia, per stabilirsi in Regno Unito Una mossa finalizzata a contenere i costi, la prima stagione è costata più di 700 milioni di dollari, ma anche di strategia, Amazon ha in progetto di aprire un hub produttivo nel Regno Unito dove girerà le sue serie originali Gli Anelli del Potere, la serie TV più vista nella storia del servizio streaming Prime Video domina la classifica Nielsen delle rilevazioni per l'On Demand Stando all'Istituto di Ricerca, nella sua settimana d'esordio la serie ha totalizzato 1,3 miliardi di minuti visti con i primi due episodi Il finale della prima stagione è atteso venerdì 14 ottobre su Prime Video Concepita come una origin story che racconta l'ascesa di Sauron e la realizzazione degli Anelli, la serie porta per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica seconda era della storia della Terra di Mezzo Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lobbite e il Signore degli Anelli DJ R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei figli, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo Dalle più oscure profondità delle montagne nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo Scopri altre notizie della serie Il Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere Tra i volti nuovi che debutteranno nella seconda stagione è anche quello di Círdan, un elfo che avrà un ruolo fondamentale nella resistenza contro Sauron Attualmente non è stato ancora annunciato il casting del personaggio Il cast della prima stagione include Cynthia Dye Robinson, Robert Aramaio, Owen Arthur, Maxime Baldri, Nazanin Boniadi, Morfid Clark, Ismael Cruz Cordova, Charles Edwards, Tristan Gravelle, Sir Lenny Henry, Emma Orvat, Markella Cavenag, Tyrone Muefidin, Sofia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Odom, Benjamin Walker, Daniel Wayman, Nessarad Bangobani La serie è guidata dagli showrunner ed executive producer Jay Di Payne e Patrick McKay A loro si uniscono gli executive producer Lindsey Weber, Calum Green, Jay Abbe Iona, Belena Tienza, Justin Doble, Jason Kyle, Jennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Taliguado, e i produttori Ron Names e Christopher Newman Wayne Kayyip è co-executive producer e regista con Jay Abbe Iona e Charlotte Brandstrom